Le concessioni dei maniali marittime a Castellabate saranno prorogate fino al 31 dicembre 2033. Con l'introduzione delle nuove disposizioni sulle concessioni dei maniali marittime con finalità turistico-ricreativa, il Comune di Castellabate ha dato attuazione alla procedura di estensione delle concessioni come indicato dalla legge 145-2018. Si invitano pertanto tutti i titolari di concessioni dei maniali marittime a manifestare la propria volontà di poter fruire dell'estensione della validità presentando la documentazione necessaria indicata nell'avviso legato alla delibera di giunta numero 142 del 2020. Sarà cura dell'ufficio governo del territorio e demanio di verificare i requisiti per l'utilizzo dei beni demaniali. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo per un territorio a vocazione turistica come Castellabate, l'aggiornamento delle concessioni era un atto fondamentale, dichiara l'assessore delegato al demanio Marco Di Biasi. Si tratta di un provvedimento importante che permette ai tanti operatori del settore di investire sulle strutture e sui servizi di qualità in spiaggia.